Ci sono valutazioni da fare, tempi tecnici da rispettare, ha detto stamani al telefono Antonio Lombardi in riferimento alla trattativa di cessione del club. Chi è pronto ad acquistare, sborsando non pochi milioni di euro, starebbe valutando nella sua globalità la fattibilità dell'operazione anche in relazione ai possibili ritorni. Di certo però anche la scadenza del 31 marzo, quella che più volte negli ultimi giorni era stata indicata dagli stessi dirigenti come quella della probabile cessione della Salernitana, sembra slittare ancora tra l'inevitabile disappunto e le perplessità dei tifosi ed anche quelle dei calciatori che attendono da tanto il pagamento degli stipendi arretrati. Qualcosa sarà fatto in questi giorni, ha ribadito pure ieri l'amministratore unico del club Antonio Loschiavo al termine della partita vinta con la Cremonese. È una trattativa comunque ancora lunga, non si concluderà a breve. La trattativa c'è, i conti sono chiari e trasparenti anche perché comunque la situazione economica della società è stata vista e rivista insieme anche ai commercialisti di chi è interessato alla proprietà. Chi è interessato ad acquisire la società sta preparando un progetto a medio e lungo termine, quindi sta facendo tutta una valutazione che è globale e complessiva perché è un'acquisizione che non è legata a un fatto di passione, di amore o di istinto ma a un'operazione commerciale. Ma delle due l'una o chi entra non è convinto o i conti non sono ancora chiari? Ma ripeto, i conti sono chiari e trasparenti, il problema è che chi vuole entrare, chi è interessato alla Salernitana in questo momento sta facendo una valutazione complessiva e quindi hanno i loro tempi che certamente in questo momento contrastano i nostri perché in questo momento che succede? Che la proprietà attuale Lombardi vorrebbe cederla immediatamente. A me farebbe piacere già domani mattina non essere più amministratore dell'emergenza, i tifosi vorrebbero stabilità e nello stesso tempo liberarsi dell'attuale proprietà e questo si scontra con chi invece è un imprenditore nel vero senso della parola. Poschiavo, voglio fare una domanda cattiva, molto cattiva, non è che stare aspettando di vedere se la squadra va in B o no e che quindi andando in B poi ovviamente cambia lo scenario economico e dunque poi la trattativa... ma anche perché non è la B del 94 dove con una promozione la società incassava di certo 10 miliardi di vecchia lire. Oggi una promozione di B non cambia la vita, anzi forse aumenta i costi ma non i ricavi. Se consideriamo l'anno scorso alla fine noi abbiamo incassato tra contributi e altro non più di un milione e otto quindi ripeto una promozione di B non cambia la vita. Al momento le uniche certezze arrivano solo dalla squadra perché la Salernitana vince e convince, emoziona i suoi tifosi e sogna i playoff. La vittoria ottenuta in rimonta con la Cremonese ha garantito e granata altri tre importanti punti in chiave Sparigi. Nonostante tanti problemi la Salernitana è sempre più una realtà di questo campionato ed è tra le più autorevoli candidate al salto di categoria. Ora c'è la sosta, poi un altro scontro diretto a Verona.